Quindi Moonlord E si va Eccolo Eccolo Oh mio dio Madonna ragazzi Occhio al raggio Eh io sono morto già Morto Mi ha fatto il culo Fa tanto danno raga Vabbè Aia Mi ha aperto col laser Mi ha fatto il culo 324 di danno al raggio Aia Ok Vieni vieni Sparami Morto Aia Morto Niente Eh no Fai i buff servono Eccolo Oh Dov'è Eccolo E' sparito Ok Occhio scoperto Colpitero Colpitero No avevo l'adrenalina Non capisco dove Colpitero Ok 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 Madonna No sono morto L'occhio dei mielepialle Sì lori Ragazzi è morto No che è morto No che è morto No che è morto No che è morto Sei qui Ok come godo Come godo No raga 7000 di DPS guardiamo il dragon folly facciamo prima dai facciamo sto boss e poi andiamo a letto cosa vuoi da me non è colpa mia se Bea c'ha sonno ma cosa vuoi Bea c'hai sonno oh merda eh meno male che era bello raga che emozione il primo boss boss come andiamo oh merda ragazzi oh ragazzi ma cosa porca troia porca troia no raga raga ci ha chiuso raga ci ha delimitato l'arena hai tosto eh porca troia forte si tra l'arena aia mi ha ucciso oh raga c'ha 5% morto bravo vale morto 300 di danno dai 3% dai 3% si morto si via ma guarda che boss fight ragazzi ah profanet guardian allora che belli madonna non li avevo mai visti respiratati ah saprò ancora non ricordo ok questi son tosti eh 3 2 1 via oh porca oh cristo ok ho paura ok allora sono 3 ragazzi una testa uno è immune finchè gli altri due non muoiono ma è immune proprio laser che fa danno mio dio laser che fa danno ovviamente non è che l'altro sta morendo è morto è morto l'altro morto io ok ne è rimasto uno solo ho 50 di vita ragazzi oh mio dio no morto dai che muore morto morto bene è stata easy questa abbastanza beh non dà la fate sul bed cioè mi ha dato un drop il profanet core e basta mi dai il profanet core per favore serve per evocare providence vai vai facciamo providence proviamo uccidiamo questa puttana oh madonna santa questa fa paura questa si fa paura occhio baletel non colpitela non colpitela quando fa così no l'adrenalina avevo no l'adrenalina avevo no l'adrenalina avevo no l'adrenalina avevo che cosa che cosa no raga se vi allontanate troppo vi brucia sono morto non potete allontanarvi troppo raga stiamo andando bene dai aia muoio morto no 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 quando fa il baletel non devi stare così attaccato eh però se ti stai troppo lontano o ti brucia eh lo so eh quello è difficile oh 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 morri morto di brutto ma morto di brutto no madonna che cazzo ho fatto mio pio sti cazzo di laser valetel madonna la odio tutto me stesso madonna sto cazzo di debuffi cari unswind lo odio tantissimo odio tutto di sto boss valetel valetel che cazzo più veloce no eh no mio dio mio dio mio dio no raga i guardiani i guardiani li ha spawnati pure pure ha spawnati i guardiani la schifosa madonna no raga si sta guarendo bisogna uccidere i guardiani è morto è morto l'ho ucciso l'ho ucciso morti si morti vai 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 andiamo andiamo valetel morto dov'è è qui è espanato è qua guarda è qua che si muove no io non lo vedo è qua mi stia facendo danno ma dov'è vedi che c'è lo sfondo no è sparito ma perché sono spariti ma che cazzo vogliono giocare no 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 no